buongiorno sono giordano orberto sono il titolare di questa macelleria salumeria gastronomia da tre generazioni nel settore alimentare è un negozio altamente specializzato dove si trovano i prodotti migliori che ci sono sul mercato quando volete venire a trovarmi troverete il più buon prosciutto cotto che il prosciutto cotto lenti è un prosciutto cotto di altissima qualità molto molto morbido non contiene glutine non contiene conservanti e dunque è un prodotto che è apprezzato nelle famiglie il prosciutto cotto viene scotennato la cotenna viene tagliata in senso orizzontale viene sfilata dopodiché si pone sulla fettatrice in senso parallelo sempre nello stesso modo non si può cambiare posizione di questo prosciutto cotto a questo punto invito tutti i miei clienti e non clienti ancora a venire a trovarci e venire a giocare sul sul sito della lenti